in vitla ho trovato delle macchine precise veloci con controllo dell'angolo abbiamo messo una otto assi quindi sapete bene che a giorno d'oggi sono tutti controlli che ti permettono di avere una produttività e una qualità di produzione al top di gamma stavamo valutando diverse il momento d'acquisto per un impianto più automatizzato avevamo guardato le marche più blasonate una mattina si è presentato corrado dove mi ha detto io vedo anche piegatrici riesco posso fare anche un impianto automatizzato convinto abbiamo trovato un aiuto alla risoluzione di tutti questi problemi e alla fine mi hanno fatto praticamente un impianto ad hoc quindi super compatto e super flessibile queste due cose che al giorno d'oggi mi ritengo di aver fatto anche una scelta giusta mi ha permesso di aumentare la produttività attuale dell'impiegatura questo impianto qua alla fine è stata una grossa scommessa per me io devo solo che essere contento perché sono riusciti a togliere tutti i problemi di piegatura che fino adesso era quasi impossibile risolvere ecco